Non sono neanche arrabbiato, è il giusto epilogo per uno scempio. Mi aspetto soltanto un comunicato lunedì o domani o stasera, quando cazzo dovete farlo, dove c'è scritto è stato cacciato l'allenatore. Non voglio commentare niente, non c'è niente da commentare. Ha schierato la difesa a 4 con Mattia Desciglio, dopo 11 mesi di inattività, ha messo Miretti, li ha tolti entrambi e è tornato con la difesa a 3. Ha messo Sekulov, che è un attaccante, e l'ha messo a fare il terzino a sinistra. Ci si è accontentati giustamente di un punto e hai perso 1-0 contro una squadra che ha meritato di vincere. Devi fare le valigie, ci hai distrutto l'anima. Tu devi sparire, ammutinati!